La Fondazione Orosei per il Sociale e la parrocchia Gesù Divin Lavoratore Giuseppini del Murialdo Taranto organizzano la serata concerto di Natale con Franco Guito e l'Orchestra Arcadia sabato 14 dicembre ore 18 e 30 presso la chiesa Gesù Divin Lavoratore Oratorio Padre Murialdo Taranto Ingresso gratuito con pettolata per tutti Il piacere di vivere insieme la magica atmosfera del Natale all'insegna della buona musica Si ringrazia la Fondazione Orosei per il Sociale per la profonda sensibilità dimostrata per la realizzazione dell'evento